Una ragazzina del primo superiore che non si era accorta di avere l'abbonamento del pullman scaduto e l'autista che la fa scendere dal bus sulla strada provinciale all'estrema periferia del paese. Accade a Cellino San Marco dove la studentessa di 14 anni si è ritrovata da sola in mezzo alla strada alle 7 del mattino. Ci troviamo nel punto esatto in cui la giovanissima studentessa di Cellino San Marco è stata fatta scendere dall'autista. Come vedete non c'è alcuna fermata delle ferrovie sud-est e ci troviamo all'estrema periferia del paese. La famiglia della ragazza si è rivolta all'avvocato Ilaria Baldassarre per chiedere chiarimenti alle ferrovie sud-est. Quella mattina del 29 settembre è salita sull'autobus se non che a un certo punto si è resa conto che aveva un abbonamento settimanale scaduto anche perché il giorno prima non era andata a scuola e quindi non aveva potuto appurare prima questa circostanza. Ha fatto presente all'autista in maniera molto candida, innocente questa situazione. L'autista l'ha invitata a cercare, a chiedere a qualcuno presente nell'autobus se avesse un biglietto da prestarle. Purtroppo nessuno aveva un biglietto. Nel frattempo che tutto ciò si svolgeva l'autobus era in movimento, era già ripartito se non che quando la ragazza ha avvisato l'autista che purtroppo non aveva trovato nessuno che potesse dare un biglietto l'autista ha fermato l'autobus e le ha detto di scendere. L'ha fatta scendere praticamente fuori quasi dal centro abitato sulla strada che congiunge Cellino a San Pietro dove non vi è alcuna fermata autorizzata e consentita delle ferrovie sud-est. Peraltro non c'è un marciapiede, non c'è nulla. Per cui la ragazza a quel punto, chiaramente primo anno di scuola superiore, incredula e attonita benché avesse chiesto all'autista gentilmente se potesse accompagnarla per quella volta a Brindisi e l'autista l'ha fatta scendere comunque e quindi è scesa e è ritornata a casa a piedi da sola. Le ferrovie sud-est hanno avviato un'indagine interna per identificare l'autista e chiarire l'accaduto. Oltre a chiedere chiaramente le scuse da parte della società alla famiglia e alla ragazza per questo evento alquanto increscioso che ha colpito comunque una minorenne.